Da come si legge su internet sembra proprio che Asia Argento sarà una nuova concorrente di Pechino Express, il reality show che ci sarà nel 2020. Sarà lei dunque, da come si legge nel web, una delle possibili papabili prossime concorrenti. L'attesa o meglio la notizia è possibile leggerla qua su internet, nel web, le riprese già dovrebbero incominciare a fine di ottobre e alla guida di questo programma, di questo reality, ci sarebbe come conduttore il buon Costantino della Gerardesca. Nomi ancora non ufficializzati, ma probabilmente potrebbe essere, ripeto, Asia Argento ad essere una delle concorrenti proprio dello reality in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione. Di recente Asia è tornata in grande spolvero con un look innovativo, meglio nuovo, infatti è apparsa con i capelli biondi, corti. Infatti nelle foto pubblicate nel web ha questo piacevole look, ripeto, nuovamente. Vi ringrazio, ripeto, per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi, commentate e un saluto dal vostro Leandro, alias dal vostro narratore italiano.